Unione Comuni Valle e Blei si dimette il Presidente de Bufera. Non c'è pace nell'Unione Comuni Valle e Blei dove il Presidente Sindaco di Buccheri Alessandro Caiazzo ha deciso di dimettersi. In una nota ha spiegato i motivi per i quali ha rassegnato le dimissioni. All'interno dell'ente, oltre alla scarsa partecipazione alle statute degli organi collegiali e il disinteresse di qualche amministratore, vi è una profonda crisi organizzativa, oltre a una sorta di faida interna tra il settore affari generali e quello finanziario, che di fatto avrebbe portato a importanti ritardi nella deliberazione del rendiconto di gestione 2020 e del bilancio di previsione 2021-2023. Nella nota il Sindaco Caiazzo considera il ridimensionamento dell'Unione da ente per la gestione associata dei servizi a struttura di coordinamento politico-amministrativo della zona montana della provincia di Siracusa. La situazione finanziaria dell'Unione è preoccupante ed è difficoltosa a fare quadrare i bilanci. Proprio il rendiconto di gestione, evidenzia il Presidente Caiazzo, ha fatto emergere l'incapacità di dialogo tra i capi settori, oltre al fatto che quasi tutti gli ex dipendenti dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei diffidano l'ente per atavici ritardi nel pagamento delle aspettanze, minacciando azioni giudiziali che farebbero lievitare gli esborsi. Tra i creditori in coda vi sarebbero alcuni fornitori che hanno intimato all'ente sostenendo di adire le vie legali, circostanza che pone in imbarazzo questa Presidenza che ha sempre adempiuto ai propri doveri e ha sempre tenuto un'immagine esterna di grande serietà e compostezza. Il Presidente Caiazzo appena la scorsa settimana ha ingaggiato una polemica con Lega Ambiente per l'istituzione del Parco Nazionale della Valle degli Iblei dicendosi contrario a una soluzione calata dall'alto.